sapevate che il tumore alla prostata colpisce un uomo adulto su mille ma è terribile sì pensate che in italia solo nel 2017 sono stati registrati 36.000 nuovi casi ma per fortuna oggi ci sono molti modi di fare prevenzione uno gli screening che secondo le ricerche riducono il rischio del 50 per cento e 2 l'eliminazione delle cause scatenanti per scongiurare il rischio di tumore alla prostata prostata ingrossata infiammazione prostatica e quali sono le cause un recente studio americano ha scoperto una causa insospettabile per il tumore alla prostata e anche come scongiurarla questo è quello che vedremo insieme in questo video è come scongiurare il tumore se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video allora questa è una notizia importante la causa insospettabile è l'infertilità maschile ma chi lo avrebbe mai detto secondo uno studio gli uomini che soffrono di infertilità maschile causata da disfunzioni del liquido spermatico sono più a rischio di sviluppare forme aggressive di cancro alla prostata meglio saperlo prima no la ricerca è stata condotta dal department of urology della university of washington di seattle e dal department of urology della university of california di san francisco è stato pubblicato su cancer e il link è in descrizione ma come possono fare prevenzione i nostri uomini giusta domanda la prevenzione dovrebbero farla tutti gli amici maschietti i ricercatori dimostrano che oggi è fondamentale fare tutti i controlli regolarmente per la salute maschile e i livelli di psa già a partire dai 30 35 anni ma attenzione chi soffre di infertilità deve essere ancora più assiduo e rigoroso anche i livelli di testosterone hanno un ruolo importante e in questo mio video vediamo come mantenerli nei livelli ottimali come sempre la naturopatia sostiene che l'alimentazione ha un ruolo importante per la prostata e ho raccolto i migliori cibi amici e nemici della salute maschile nella playlist che lascio in descrizione sotto e per approfondire trovate tanti altri validi consigli su alimentazione stile di vita rimedi naturali nel mio ebook prostata sana naturalmente dai 30 anni in su tutti dovrebbero leggerlo lo dice la scienza per seguire altri video come questo iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro di divulgazione sulla salute naturale la prostata è un organo importante e anche delicato non trascuratela abbiatene cura in modo naturale se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao